Farsi Ligardi, sinistro velenoso, vola Silvestri e mette in corner! Silvestri, a punizione lunga cercare Falcinelli, va via Ferrari, va sul fondo, mette in mezzo Dio, consigli, si distende e salva! Ecco il cross per Guionberra, Cicci Sola, poi Bonazzoli, due volte, sinistro a lato che chiude l'azione, bravo qui Cicci Sola ad arrivare sulla testata di Guionberra! Floriano in avanti per Brunori, va a sfidare tutta la linea del Toro, Brunori a giro! Milinkovic Savic schiaffeggia il calcio d'angolo! Bidawi, va andare a puntare, prende ritmo ancora, Bidawi, palla in mezzo, Dionisi! Gioronen, super salvataggio! Kone resiste bene all'attacco di un avversario, poi si infila in aria, nessuno lo ferma, Kone! Ci vuole la super parata di Cragno per tenere in vantaggio il Monza! Cicerelli, parte lui, Audero, para e salva la Samp all'ottantottesimo! Ha sbagliato il rigore dell'1-1, Cicerelli! Audero è l'eroe della serata! Dico Giannis da sinistra, altro cross sul secondo palo! De Silvestri ci arriva, Matosevic ferma tutto, ancora una volta! Da un quinto all'altro, Faraoni, servito da Lazovic, gran parata di Caprile che va in angolo! Karacic può avanzare, occhio al lancio di Karacic che pesca bene Moreo in aria, il controllo col petto! Moreo, il cross in mezzo, oh yeah! Miracolo di Nicolas! E poi Bianchi la manda alle stelle, ma cosa ha preso Nicolas? Bello il cross di Moreo, miracolo del portiere del Pisa! La scola della giunata! La giunata! Grazie a tutti.